Ciao a tutti, benvenuti a una nuova azienda intervista, se non smettessi di muovere le mani prima del tempo mi farebbe un gran piacere il suo addetto stampa è la mia host per il giorno Arianna Talamona, buonasera 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 conclusi con un bel secondo posto i 100 ranadonne FIMP sono in tempo una scattata 1.59.74 direi che va più che bene no più che altro è strano, se non lo ricordo io vedi che sono una persona affidabilissima parlando seriamente che così un comunicato stampa decente lo faccio domani no anzi lo faccio domani sì perché potrei non resistere lo so io non resisto a me stesso più che se resisto al cuore parliamo seriamente che sensazione hai avuto in acqua è un tempo per te, hai detto, inaspettato quindi devo dire che sì sono contenta perché comunque abbiamo fatto una settimana di riposo dopo che abbiamo fatto fagli anni riprendere con un cento ranadonna lunga dopo un settimana di riposo non è proprio il massimo però con la condizione mi dirò che sono contenta anche a te fai Bergamo? eh? anche a te fai Bergamo? sì ale, ale, ale quindi dopo i bei campionati italiani dopo il bel, una bella vita un bel ritorno un bel ritorno in Vasca Lunga sì e non è Vasca Lunga Bergamo vero? no a Corta si ritorna alla Corta per poi passare successivamente di nuovo alla Vasca Lunga con obiettivi Augusto, bella mi sa che vengo Augusto, lo sai? sì eh, la botta di culo non finiscono mai scusate il termine con questa vi salutiamo che è successo? dillo, dillo ciao Charles vabbè, ok si ha problemi siccome conosce me ha cominciato ad avere problemi anche lei scusate oggi siamo benedetti perché l'audio c'è esatto in questa vi salutiamo Mirko Zebrone e Arana Talamona che prenderà il mio posto a fare le sue mie interviste e alla prossima, ciao